Salve! Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Farotube e oggi siamo qua con un nuovo video. Con questo video continuiamo la saga del blocco motore 100cc minarelli raffreddato ad aria perché nella scorsa puntata abbiamo parlato, se ben vi ricordate, e presentato il cilindro 100cc marchiato Aersal raffreddato ovviamente ad aria. Nella puntata odierna invece non andremo più a parlare del cilindro perché l'abbiamo già visto ma andremo a parlare dell'albero motore. Quindi andremo a spendere due parole sull'albero motore, su quello che è stato fatto perché come vedete è già aperto, quindi è già stato trattato, se così possiamo dire. Andremo a parlare anche dei cuscinetti che andremo a montare, di cui ho fatto abbastanza fatica a riuscirne a recuperare perché è un blocco motore particolare, poi comunque di questo ne parleremo nel video. Nel successivo video andremo invece a vedere i carter 100cc minarelli che ricordano molto i 50cc ma ne parleremo poi di quelli in uno specifico video. Dopodiché chiaramente andremo ad assemblare il tutto, arriverà poi la prima accensione eccetera eccetera eccetera. Prima di partire col video vi ricordo di iscrivervi al canale, trovate il tasto iscriviti sotto al video, di lasciare un mi piace per supportare il video e il canale stesso, quindi tutti i contenuti che cerco di portarvi e vi ricordo che se volete vedere dall'inizio la sciaga completa e quindi ci parte con la presentazione del cilindro sotto in descrizione e a fine video vi lascerò il link. Detto questo iniziamo con il nostro albero motore. Bene allora oggi ci andremo ad occupare dell'albero motore e dei cuscinetti. In particolar modo andremo a vedere come mai questo video è uscito così in ritardo e perché troviamo un albero motore di una marca che probabilmente nessuno di voi ha mai avuto tra le mani, quindi andremo a capire il perché. Inizierei subito da questo fattore, quindi cioè come mai non abbiamo comprato il classico Malosci e Polini? Beh perché non esiste? Purtroppo purtroppo no. Per qual motivo? Perché questo carter, quindi questo blocco motore, il Minarelli 100cc, raffreddato ad aria ed è uscito solamente di questa tipologia, era montato in Italia semplicemente su due tipi di scooter. Uno era l'Aerox 100 che se ne sono visti in giro pochissimi e l'altro era lo Scarabeo dell'Apriglia 100cc che ha avuto un discreto successo rispetto all'antagonista Aerox però ne sono stati venduti relativamente pochi. Quindi se il mercato non gira su questo tipo di motore ovviamente le case che producono componenti speciali, tra virgolette, quindi cilindri, alberi motore, roba seria per poter potenziare il motore, ovviamente non investono e quindi non ci troviamo componenti da poter acquistare e infatti Malossi Polini non ha creato praticamente nulla per questo motore in realtà Malossi ha creato un cilindro ma non ci viene neanche data la testata ed è in ghisa e quindi era per quel motivo che ho deciso di comprare Aersal e di andare quindi su un cilindro almeno in alluminio. Fa il variatore, almeno questo, poi basta, tutto il resto praticamente è inesistente. Quindi ho dovuto iniziare a guardarmi un po' all'estero e all'estero effettivamente è stato decisamente più venduto e ci sono delle case che appunto hanno prodotto anche dei cilindri belli, tosti, con degli alberi motori belli, tosti, con una corsa maggiore quindi sicuramente delle elaborazioni molto molto più spinte rispetto a quella che andremo a vedere noi. anche perché noi comunque abbiamo sempre il problema dello scarico quindi o si spende o ci si accontenta, si fa quel che si può con quello che si riesce ad avere quindi non abbiamo molte altre strade insomma ecco purtroppo è così. detto questo quindi ovviamente avrete già capito che l'albero motore è stato acquistato all'estero e è stato comprato un albero motore di una discreta qualità comunque paragonabile all'originale insomma ecco diciamo così. lo andiamo subito a spacchettare insomma andiamo ad aprirlo a vedere. Come vedete è il classico albero motore a me ricorda tutti gli effetti gli alberi motori dei minarelli 50cc perché ecco c'è caduta anche la lunetta che adesso andiamo a recuperare. Classico albero motore originale dei minarelli 50cc se vedete d'accordo con insomma è rifinito anche abbastanza bene sapendo che è prodotto in Cina non possiamo non possiamo lamentarci è chiaro che da un albero motore che non è neanche completamente a spalle piene non possiamo andare a tirar fuori un motore un cilindro di alte prestazioni ovviamente d'accordo e qui mi ricollego poi anche al discorso della marmita non avendo un albero motore serio che possa tenere determinati cavalli è inutile andare a fare un cilindro esasperato ed è inutile poi avere anche andare a spedere dei gran soldi per una marmita e quindi facciamo il massimo che riusciamo a fare con quello che abbiamo d'accordo cercando di rimanere contenuti nei costi. L'albero motore chiaramente come avete visto non l'abbiamo aperto insieme ma era già stato aperto per il semplice motivo che questo qui prima di essere montato questo fantastico signorino è passato dalla rettifica è passato dalla rettifica nel senso che l'ho portato oltretutto siccome non conoscendo questo marchio non so come lavora non l'ho portato a far centrare ed equilibrare infatti effettivamente è arrivato non a posto ci hanno dovuto lavorare su per metterlo a zero quindi è già pronto adesso in questo momento è già pronto al montaggio perché è stato fatto chiaramente questo? perché ovviamente se siamo a zero dura tutto quanto di più cuscinetti, albero motore ma anche abbiamo vibrazioni minori quindi è una cosa che va fatta per il costo che ha va assolutamente fatta prima di montare l'albero seppur appunto non è a spalle piene di una discreta qualità eccetera 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 la biella oltretutto è esattamente uguale a quella originale oltretutto è marchiata sempre nello stesso modo ed è stato deciso di comprare questo rispetto all'originale ad esempio dell'Areox 100 per via del prezzo perché costa chiaramente decisamente meno ed è simile molto simile insomma a vedersi probabilmente avrà una gabbietta all'interno di discreta qualità eccetera eccetera però per quello che ho potuto verificare le sedi sul cuscinetto sono ottime ci siamo come tolleranze è stato riportato a zero quindi direi che comunque a meno che non abbia dei difetti di fabbrica questo preso e montato non ci dovrebbe dare grossi problemi stesso discorso ovviamente vale anche per i cuscinetti che come vedrete è marca SNR solitamente noi utilizziamo SKF NTN principalmente sono questi i marchi più blasonati per i cuscinetti in questo caso è tutto un po' particolare e abbiamo dovuto comprarli oltretutto originali perché purtroppo non si trovano delle misure in quanto sono di misure differenti rispetto ad esempio ai blocchi motori 50cc infatti adesso ve ne apro uno così vi riporto anche le misure ok infatti diamo un interno da 25 ok spessore 15 ed esterno che è un 52 quindi sono misure abbastanza bizzarre particolari insomma non le classiche solite che troviamo va bene allora dai spese due parole quindi anche sull'albero motore anche questo componente è arrivato insieme a cuscinetti adesso ci mancano i paraoli che sono in ordine perché abbiamo sempre delle settimane di tempo da dover aspettare questa è tutta roba che nessuno ha in casa sempre per il motivo che dicevamo prima e nella puntata successiva invece andiamo a vedere il carter dopo aver visto il carter comunque guardatelo perché vi ricorderà sicuramente molto il minarelli 50cc poi lì spendiamo due parole anche su quello andremo a fare la chiusura del blocco motore quindi i cuscinetti mettiamo dentro l'albero e monteremo il cilindro eccetera eccetera insomma il solito cosa va bene ragazzi se ci sono delle domande se c'è qualcosa da aggiungere se avete degli ulteriori consigli perché magari avete già trattato comunque questi marchi che avete già trattato questi motori potete tranquillamente scrivermi un commento che può sempre essere utile magari anche a qualcun altro oltre che a me per il futuro e niente dal nostro albero motore da Farotube dal nostro minarelli 100cc è tutto iscrivetevi al canale un saluto alla prossima iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale